L'ultimo Nintendo Direct Mini è tornato a mostrare Bravely Default 2, con un nuovo trailer che svela la data di uscita, ma non solo. Lo sviluppatore Silicon Studio ha infatti discusso tutta una serie di migliorie che sono state prese in considerazione grazie ai feedback dei giocatori che hanno provato la demo qualche mese fa. Il trailer si è aperto con un duello tra un guerriero inquietante che parla come un super cattivo e un vecchietto dall'aria mite, ma molto forte, agile e veloce. Tuttavia non è più il guerriero della luce scelto dai cristalli come crede il suo sfidante. Sebbene non venga ancora delineato l'inizio della storia, è qui evidente il ritorno di temi già presenti in Bravely Default e in Final Fantasy. Si parla di nuovo di quei cristalli magici che alimentano il mondo e che di tanto in tanto scelgono uno o più individui straordinari, solitamente quattro, come salvatori del mondo da una minaccia non meglio definita. Il mondo fantasy ricorda molto quello dei precedenti episodi, ma Bravely Default 2 dovrebbe essere una storia completamente nuova, incentrata su eroi inediti che si muovono in un mondo diverso. La messa in scena di personaggi e cinematiche conferma una regia molto più dinamica e cinematografica. Il Nintendo Direct Mini si è concentrato su quattro nuovi asterischi, ovvero i job o le classi che i quattro eroi set ad El, Elvis e Gloria possono intraprendere. Si può infatti scegliere una classe primaria e una classe secondaria. La prima è quella che guadagna punti esperienza e, crescendo di livello, impara nuove abilità e incantesimi. La seconda, invece, è di sostegno e garantisce una gran varietà di sinergie e tanti elementi di gioco di ruolo come l'equipaggiamento, gli accessori e i bonus permanenti. Nella demo erano disponibili il tuttofare, il Fante Corazzato, il Mago Bianco, il Mago Nero e il Monaco. Il nuovo trailer ne ha mostrati brevemente altri tre. Il Dragoon, una specie di pittore che combatte con tavolozza e pennello, e un alchimista con fiale nella cintura e un macinino in spalla. Quelli su cui si è concentrato principalmente sono però gli asterischi di quattro nuovi cattivi. Doug detiene l'asterisco del Vanguard e combatte impugnando un'arma, una mano e lo scudo. Un tank che assorbe i colpi dei nemici e li attacca o stordisce colpendoli con lo scudo stesso. Il Vanesio Orpheus possiede invece l'asterisco del Bardo, una classe di supporto che può potenziare i suoi compagni o indebolire i nemici, per esempio rendendoli più vulnerabili a certi elementi. Anihal è una bambina cresciuta nella natura che possiede il potere del Beastmaster, che permette di catturare i nemici e schierarli in combattimento per usufruire delle loro abilità speciali. Infine Shirley ha l'asterisco del Gambler, un job basato sulla casualità. Le sue abilità sono estremamente potenti, ma dipendono da una roulette russa che può anche danneggiare se non direttamente uccidere il personaggio che la utilizza. Stando a quanto si dice nel video, questi sono i primi avversari da sconfiggere nel mondo di Excellent, e nelle prossime settimane Nintendo svelerà anche gli altri personaggi e relativi asterischi. Il filmato si è concluso con la data di uscita fissata per il 26 febbraio 2001, in esclusiva su Nintendo Switch. In un altro video, il producer Masashi Takahashi ha poi illustrato tutti i più importanti aggiustamenti che il team ha portato dopo la pubblicazione della demo, che è stata scaricata e testata da oltre un milione di giocatori. Il bilanciamento della difficoltà è il primo elemento a salire sul banco degli imputati. Takahashi ha ammesso di aver tarato di proposito la difficoltà della demo verso l'alto e di aver ora implementato tre livelli di difficoltà intercambiabili in qualsiasi momento. L'interfaccia poi è stata accusata di essere poco intuitiva. Per questo motivo, Silicon Studio ha implementato degli indicatori che ricalcano l'Active Time Battle System dei vecchi Final Fantasy. Collocati sotto i parametri dei personaggi, si riempiono lentamente e suggeriscono l'ordine con cui è possibile dare ordini ai quattro personaggi. I nemici però non hanno indicatori specifici per non dare un vantaggio eccessivo ai giocatori. Il compromesso è un'icona a forma di punto esclamativo che compare su quelli in procinto di attaccare. Sono stati poi aggiunti dettagli pensati per rendere più chiare e intuitive alcune informazioni, soprattutto in combattimento e in schermate come quella dell'Inventario. Durante l'esplorazione, i nemici più forti del team appaiono ora circondati da una minacciosa aura rossa. Sconfiggendo questi gruppi si guadagnerà un importante bonus ai punti esperienza. Modificata anche l'animazione del colpo di spada con cui è possibile tagliare l'erba, rompere gli oggetti che nascondono tesori e colpire i nemici prima di uno scontro per ottenere un vantaggio iniziale. L'attacco è ora più veloce e ha una maggiore portata. Dato che i movimenti dei nemici sono stati rallentati, è ora più facile aggirarli e scappare oppure intercettarli con la spada. Insieme a una serie di aggiustamenti minori, come la possibilità di cambiare il sistema di controllo e impostare la corsa automatica, queste modifiche dovrebbero soddisfare tutti i giocatori che avevano provato la demo, ma avevano riscontrato qualche problema. Bravely Default 2 ha dimostrato di voler andare incontro alle esigenze dei giocatori. Le migliorie apportate dal team di sviluppo sono intelligenti, mentre il sistema degli asterischi ha mostrato enormi potenzialità. Restano invece da valutare storie e personaggi, sperando che introdurranno elementi sufficienti a differenziare questo episodio dalle precedenti avventure. Voi cosa ne pensate di questo nuovo JRPG per Switch? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. A schermo trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi, grazie per aver guardato fino alla fine.